DxO ha appena presentato la Nik Collection 6, l'ultima versione della celebre suite di plug-in per praticamente tutti i software di post-produzione fotografica. Ma ci sarà finalmente qualcosa di nuovo? Ciao, sono Mariano di VideoZappo.com. Utilizzo la Nik Collection sin dagli albori della sua esistenza e devo dire che ha avuto una storia bella tormentata. Quando la acquistò Google, divenne addirittura gratuita. Poi, con la nuova proprietà di DxO, il prezzo è diventato piuttosto importante. Ma DxO, a fronte di questo prezzo elevato, non è che abbia portato queste grandissime innovazioni, almeno fino alla versione precedente. Perché ora, con la versione 6, io vedo una discontinuità col passato e qualche cosa si sta muovendo. Dunque, prima di tutto, di che cosa si tratta da Nik Collection? è un insieme di plug-in per i software di post-produzione fotografica. Puoi utilizzarli con Lightroom, con Photoshop, ovviamente con DxO, Fotolab. E adesso c'è una procedura di installazione automatizzata anche per Affinity Photo, ma sono anche, da alcune versioni, dei software indipendenti. Dunque, puoi utilizzarli senza avere nient'altro. Quali sono questi plug-in? Abbiamo Nik ColorFX, che è un software che serve per gestire colori e toni, tipicamente appunto delle immagini a colori. E la novità in questa versione 6 è che ha finalmente ricevuto un filtro HSL. Poi abbiamo Nik SilverFX, che fa praticamente la stessa cosa, ma per la conversione in bianco e nero. Io trovo che sia uno dei software più versatili per la conversione in bianco e nero. Di sicuro non il più accurato se vuoi simulare l'aspetto della pellicola. Te ne ho parlato nel dettaglio, ti linko il video nella descrizione e nella card, non mi dilungo. Poi c'è Nik AnalogFX, che dà un look, diciamo, nostalgico. Aggiunge difetti alle immagini nel tentativo di simulare vecchie immagini a pellicola. Se esageri, ottieni degli effetti molto molto pesanti. Se ci vai leggero, è un software molto utile. Nik Viveza, che in qualche verso somiglia al ColorFX, ma è più indicato quando vuoi dare un aspetto molto d'impatto alle tue foto. Colori forti, contrasti importanti. Viveza è il tool che stai cercando. Poi c'è Nik Define, che è un plugin del quale Dixo sembrava essersi dimenticata, e in un'attività come quella della riduzione del rumore, le cose sono andate avanti parecchio. In questa versione 6, Define è stato completamente riscritto, e anche se non utilizza sistemi basati sull'intelligenza artificiale, ti mette nel controllo, direi piuttosto accurato, del rumore, con strumenti che potrei dire al passo con i tempi. Nik Sharpener, che Dixo sta riscrivendo, perché soffriva di problemi, secondo me, anche peggiori di quelli di Define, arriverà con la versione 6.2 all'inizio dell'estate, presumibilmente. Dunque, se acquisti oggi la Nik Collection, avrai la versione precedente, ma quella nuova sarà inclusa con un update gratuito. Stesso discorso per Nik HDRFX, che Dixo sta riscrivendo. Arriverà anche questo con un aggiornamento gratuito con la versione 6.3, prevedibilmente nel mese di agosto. Ad oggi viene inclusa la versione precedente, che è tutt'altro che al passo con i tempi. Infine c'è Nik Perspective, che è un'aggiunta relativamente recente alla Nik Collection, strumento utilissimo, facile da utilizzare ed estremamente potente, che ha ricevuto una nuova funzione, che ti consente di cambiare la forma dei dettagli dell'immagine. Lo vediamo tra un istante. Oltre a queste nuove funzioni che riguardano il singolo plugin, ce ne sono diverse altre che invece sono trasversali a tutte le applicazioni della Nik Collection. E questo ti fa capire come Dixo si stia impegnando per rendere uniforme l'esperienza d'uso, l'interfaccia grafica, ma anche alcune funzionalità di base all'interno di tutta la Nik Collection. Adesso ti mostro di che cosa si tratta nello specifico, prima vediamo quanto costa tutta questa roba. Vedi che la Nik Collection 6 viene venduta a 149€, che puoi pagare anche in tre rate mensili da qualcosa in meno di 50€, ma se hai la versione 4 o 5 della Nik Collection, puoi acquistare l'aggiornamento per 79€. Dunque il prezzo è rimasto invariato rispetto alle versioni precedenti, le funzionalità invece sono migliorate. Ti lascio nella descrizione qui sotto il link per acquistare la Nik Collection 6 o il suo aggiornamento. Ti consiglio di scaricare almeno la versione di prova per verificare che tutto funzioni e che in effetti questo software faccia al caso tuo. Qui siamo in Photoshop, dove con l'installazione della Nik Collection avrai questa comoda palette che ti permette di richiamare rapidamente ciascuno dei plug-in, puoi fare la stessa cosa dal menu filtro. Tieni presente che sto usando Photoshop non perché sia necessario, ma per mostrarti alcune caratteristiche che appunto sono comuni a tutti i plug-in della Nik Collection. Dunque partiamo da questo mediocre scatto di Venezia e vediamo cosa possiamo fare per ravvivarlo un poco con Nik ColorFX, che per tutti i plug-in utilizza questa interfaccia, con alcuni polsanti di controllo qui sopra, filtri e preset, quindi strumenti disponibili qui sulla sinistra e strumenti utilizzati qua sulla destra. T'accennavo al nuovo controllo sull'HSL, che è un classico controllo HSL. Diciamo che vogliamo cambiare un po' il nostro cielo, seleziono il blu e posso spostare ad esempio la saturazione, posso cambiarne la tonalità, posso diminuirne la luminosità e posso accertarmi con il controllo dell'uniformità che l'intervento avvenga esattamente nell'intervallo di colori che desidero. Quindi posso allargare o restringere il range di colori in cui intervengo. Abbiamo il Clear View, che a seconda dell'intensità crea questo bel contrasto che toglie la foschia. Qui sulla sinistra abbiamo una serie infinita di impostazioni e adesso i preset sono anche ricercabili. E questo in tutte le applicazioni della Nick Collection. Quindi se trovo qualcosa che mi interessa tra i vari preset che vedi qua sulla sinistra, ti rendi conto che sono tutti quanti parecchio aggressivi. Ma se questo non dovesse piacerti, puoi comunque utilizzare i singoli filtri. Proviamo per esempio qua ad aggiungere il brillantezza colore. Andiamo a incrementare la saturazione percepita, una sorta di vividezza. Scopriamo che questo effetto qua sul mare non ci piace affatto e qui c'è una delle prime novità che volevo segnalarti. La possibilità di utilizzare delle control line, anziché soltanto i punti. Adesso in Dixo abbiamo anche questo oggetto qua. Una linea sfumata che ci permette di localizzare l'intervento al 100%, sopra questa linea allo 0%, sotto a quest'altra è sfumato qua in mezzo. Su quale pixel andiamo a intervenire, mostro la maschera in modo tale che la cosa sia più evidente, posso spostarmi con questo contagocce e se faccio così, vedi che sto mirando molto più alle nuvole piuttosto che al cielo, mentre invece se mi sposto da quest'altra parte faccio esattamente il contrario. Dunque sto targettizzando il mio intervento sul cielo. Diciamo che io voglio cambiare le nuvole, tolgo la visualizzazione della maschera e ecco qui abbiamo ottenuto il nostro effetto. Io direi anche un poco esagerato, per cui lo possiamo diminuire leggermente. È stata aggiunta anche la possibilità di invertire questa maschera. Schiacciando questo tasto farò esattamente il contrario. Te lo faccio vedere di nuovo con la maschera. Questo è quello che avevi visto prima. Se io inverto questa maschera, vedi che l'intervento è fatto esattamente al contrario, ma sempre basandomi sul colore di questa nuvola. E vedi, se mi sposto sul cielo, ottengo quest'altro effetto. Ma posso anche spostarmi qua sull'acqua. E vedi che in questo modo cambiano nuovamente le cose, cambia nuovamente la mia maschera. Ma io quello che volevo fare era questo. Per cui torniamo alla nostra condizione originale. Hai notato che in Photoshop non sono partito da uno smart object, per cui queste modifiche che stavo andando a fare diventerebbero incorporate all'interno di questo file, all'interno del livello che andrei a creare. Ma adesso la Nik Collection mi offre questa possibilità. Converti in un oggetto avanzato. La Nik Collection mi avverte che facendo questo perderò l'uso del pennello. schiacciamo OK. E quando a questo punto vado a schiacciare Applica, vengono salvate queste informazioni, ma automaticamente viene creato questo smart layer, che è una copia del mio sfondo, e qui sotto ho i miei filtri. Dunque, un doppio clic qui sopra, mi darà nuovamente accesso a tutte le impostazioni che ho cambiato. Se ora, per esempio, voglio alterare le tonalità del rosso, per esempio rendendole più luminose per far risaltare la città, posso farlo? Posso fare la stessa cosa sugli arancio, che probabilmente è un intervento che funzionerà ancora meglio, e volendo posso anche incrementare la saturazione. schiaccio Applica e mi troverò istantaneamente il mio smart object aggiornato all'interno di Photoshop. Ti accennavo la nuova funzione di Nik Perspective, che non funziona purtroppo sugli smart object, vedi, mi dà questo messaggio di errore, dunque posso creare un livello stampato, CTRL ALT SHIFT D, di quello che ho sotto, e su questo applicare il Nik Perspective. Qui ho a disposizione una serie di correzioni, alcune interessantissime come questa qua, se vuoi approfondire l'uso di questo plugin della Nik Collection, fammelo sapere nei commenti qui sotto, perché fa delle cose interessantissime, specialmente, piccolo spoiler, se ti occupi di fotografia di eventi. Il nuovo strumento che cosa mi permette di fare? Guarda, questo palo, diciamo che non ci piace il fatto che sia così storto, io posso spostarmi qua sul Reshape e scegliere la dimensione di questa griglia, dunque quanto andare ad intervenire. Probabilmente potrebbe andar bene già a questa maniera, ma se io voglio raddrizzare questo palo, mi conviene selezionare entrambi questi due punti e semplicemente trascinarli in maniera da ottenere un palo perfettamente dritto. Posso spostare quest'altro, ora mi conviene invece spostare soltanto questo qui e guarda un po', in un istante abbiamo ottenuto davvero un bel risultato. Anche qui posso schiacciare Applica per applicare questa modifica e successivamente salva per portare le mie impostazioni in Photoshop. Guarda il risultato, questo è l'originale e questo è quello che abbiamo ottenuto con Nick Perspective. Prendiamo quest'altro fatto perché voglio mostrarti sempre in Nick ColorFX. Prima di tutto, qua, su Ultime modifiche, io trovo quello che ho realizzato nelle ultime 15 volte che ho utilizzato il singolo plug-in e questo mi permette, con un singolo click, di applicare queste modifiche alle nuove immagini. Ma diciamo che io invece voglio fare qualcosa di diverso e prendo questo tono alto, Ai-Key. Funziona, la pelle magari ci piace di più, ma quello che non va affatto bene sono i capelli. Anche qua ci vengono in aiuto i nostri punti di controllo, i cosiddetti U-Point. Prendiamo un punto di controllo e lo piazziamo qua sulla pelle. Abbiamo anche qui una serie di comandi, li metto nella visualizzazione della maschera per farti capire cosa facciamo. Io voglio intervenire su tutta la pelle, lasciando stare capelli, bocca e occhi. E' comparso questo nuovo controllo che mi permette di stabilire quanto questo intervento debba essere sfumato. Vedi, così io ho un intervento forte al centro e quasi nullo al bordo, ma spostando questo cursore posso rendere questa sfumatura molto più netta, facendo ad esempio una cosa di questo tipo qua, che va ad includere tutta la pelle. Ho poi a disposizione questi altri due cursori che mi permettono di regolare quanto debbano essere coinvolti pixel di colore, quindi crominanza differente, o di luminanza differente. Diciamo che sono soddisfatto così, magari lo sfumiamo appena appena, e ti faccio vedere qual è il risultato che abbiamo ottenuto nascondendo la maschera. Vedi che i capelli sono praticamente rimasti inalterati, questo è il prima, questo è il dopo, ma ho il mio bello effetto sulla pelle. Di nuovo mi sono dimenticato di creare lo smart object, ma posso farlo al volo e applicare le mie modifiche. Se però volesse dare un look vintage a questa immagine, posso, come ti accennavo, spostarmi anche qua su filtri, e vedi ho la mia nei collection, e qua potrei scegliere analog effects. Qui tra i preset posso cercare nelle fotocamere e ti faccio vedere che insomma ci sono effetti anche molto importanti, guarda per esempio che cosa succede con questo, nota come la Nik collection, quando selezioni un preset, ti ricorda che quando aggiungi un preset vai ad eliminare tutte le modifiche che dovessi aver apportato fino a quel momento, per cui fai attenzione a questo fatto. Questo è l'effetto finito. Se per esempio a te questi graffi ti sembrano troppi, puoi diminuirne l'intensità, puoi addirittura spegnere questo modulo, cosa che non faremo. Se non ti piace questa vignettatura, puoi ovviamente cambiarla e renderla un po' più tonda, puoi renderla più intensa, puoi cambiare tutto quello che desideri, puoi dare a questa immagine un aspetto un po' più opaco sulle alte luci, a questa maniera qui. E una volta fatto tutto questo, tu puoi salvare questa impostazione con un nuovo nome. E novità di questa versione 6, hai la possibilità di salvare gli eventuali aggiustamenti locali. E volendo puoi anche salvare due versioni della stessa preimpostazione con e senza gli aggiustamenti locali e questo è molto versatile nel momento in cui devi andare a lavorare su varie foto. Ti ricordo che questa è l'immagine da cui siamo partiti, è questo il risultato che abbiamo ottenuto utilizzando giusto un paio dei plug-in della Nick Collection. Non è necessario andarci così pesanti, ci sono tanti che pensano che la Nick Collection serva soltanto per Instagram. A mio avviso non è così, si può essere molto chirurgici nell'intervento, utilizzare la Nick Collection soltanto per dare un aspetto personale, per ottenere un look specifico nelle nostre immagini, ma non dobbiamo necessariamente esagerare così tanto. È chiaro che i preset sono piuttosto aggressivi, ma nessuno ci impedisce di personalizzarli, di dosarne l'opacità, dunque di tararli su quelle che sono le nostre necessità. Non c'è stato il tempo di vederli tutti, questi plug-in e le funzioni sono tantissime se vuoi approfondire qualcosa o se hai qualche domanda fammelo sapere nei commenti qui sotto. Io trovo che il lavoro di Dixo nel rendere uniforme l'interfaccia, nel creare una serie di strumenti condivisi tra le varie applicazioni, l'utilizzo delle stesse metafore per fare le stesse attività, stia dando i suoi frutti e finalmente la Nick Collection sta mostrando come Dixo si stia impegnando per dare valore al costo d'acquisto di questi plug-in. I nuovi Control Point hanno tante funzioni di Dixo, sostiene che l'utilizzare il sistema che utilizzano basato su Chroma e Luma sia più valido delle varie maschere ad intelligenza artificiale. Io posso dirti che sono due approcci completamente differenti e che per alcuni versi i Control Point di Dixo sono sicuramente più prevedibili e una volta che hai imparato a gestirli ottieni effettivamente il risultato che desideri. Certo, la carenza di intelligenza artificiale si sente e sembra un po' in controtendenza con tutto quello che stanno facendo gli altri produttori, ma la filosofia di Dixo è quella di applicare delle regolazioni personalizzate all'immagine conoscendo i mezzi con cui è stata realizzata i cosiddetti Dixo Models piuttosto che cercando di indovinare con l'intelligenza artificiale cosa rappresenta quella immagine. E se guardi i risultati che Dixo riesce ad ottenere ad esempio con Pure Raw ti rendi conto che è difficile dargli torto. Pure Raw tira fuori davvero delle ottime immagini specialmente se le hai scattate con un'attrezzatura non proprio all'avanguardia. Te ne ho parlato nel dettaglio. Ti linko il video qui accanto fai click per guardarlo un software davvero interessante. Io ti ringrazio per aver guardato questo video iscriviti al canale dammi una mano a mandarlo avanti metti un bel like condividi questo video ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video.